buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione oggi ragazzi rispondo ad un signore che mi chiede che un esperto di ipnosi mi chiede dottore ma qual è la differenza tra la sua ipnosi dcs con la v maiuscola ipnosi vera e professionale con l'ipnosi conformista e commerciale di milton erickson deve elman brian weiss che sono degli ottimi ripeto ipnoterapeuti di caratura internazionale molto pubblicizzati ecco perché la definisco commerciale e conformista perché più o meno seguono tutti lo stesso filone bene una delle più grandi differenze che io ho incrociato nella mia vita nel 2008 conoscendo la dottoressa rina brunie salvando mio padre con l'ipnosi a distanza online su skype e che tu puoi ipnotizzare anche chi non vuole chi non partecipa chi non ti segue chi non ascolta chi non risponde ai tuoi comandi almeno a livello razionale cosciente un'altra cosa che mi ha impressionato impressionato è che non usi gli auricolari un'altra cosa molto importante sono le suggestioni le parole create ad arte ad hoc che non trovi da nessuna parte io ripeto sono partito da ipnotista autodidatta moltissimi anni fa le ho provate tutte e ti posso garantire che le suggestioni dell'associazione ipnologi associati del grandissimo professor dottor miguel angel garai della dottoressa rina brunini non hanno uguali nel mondo inoltre questo metodo veramente unico perché ti consente di ipnotizzare anche il tuo caro che non vuole essere aiutato perché magari è pieno di sensi di colpa quindi si vuole punire da solo se ne lo dice a livello razionale a lui al suo caro ti mandano a quel paese è così ragazzi che stanno buttati nel letto davanti alla tv o accanto a una bottiglia di vino ora se tu segui alla lettera però bisogna seguire alla lettera le istruzioni che sono a prova di nonna prova di piccola prova di idiota come ripeto spesso per cui sono istruzioni facilissime che tutti scarichi anche con un solo audio mp3 relativo al tuo caso il tuo problema o quello del tuo caro tu puoi risolvere il tuo problema anche fino al cento per cento che trovi su internet sul mio sito internet www.ipnologi associati.com però ricordati oltre agli audio e tu ne può usare più di uno perché una cosa non esclude l'altra e ogni audio è specifico per quel problema per quella suggestione eccetera eccetera ti posso garantire che ci sono anche le sessioni online di pronti dicesse io ne ho fatte migliaia in tutti questi anni in tutto il mondo da qualsiasi parte del mondo e in questo momento sono sospese perché non ho tempo sto cercando di divulgare il mio metodo dicesse in tutto il mondo e nello stesso tempo ho constatato dai miei dati che anche con un solo audio mp3 dcs che proviene ripeto ancora una volta da los angeles beverly hills modificato dalle mie esperienze dal 2008 ad oggi perché mi ipnotizzo h24 e ho aiutato centinaia e centinaia di persone nel mondo online tu puoi uscirtene soluzionare trovare la soluzione non devi credere al sottoscritto che devi soltanto fare e se rifletti il costo anche se sembra molto caro rispetto a tutto ciò che vedi in giro di ipnosi conformista commerciale di meditazione anche gratis a pochi spicci tu devi chiederti che cosa mi risolve che risultati duraturi mi dà perché un'altra caratteristica è che qui se segui l'istruzione della lettera prova di non a prova di pigro si parla di risultati perenni e duraturi perenni e duraturi senza ingurgitare nulla dall'esterno mentre con gli altri tipi di meditazioni ipnosi conformista commerciali risultati li ottieni ma sono temporanea sperimentato su di me ok per cui prova prova non credere al sottoscritto devi soltanto provare 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 e meravigliarti poi ci sono tante altre differenze che non sto qui a dirti ma che piano piano ti snocciolerò ok per cui le differenze tra l'ipnosi conformista e commerciale la meditazione lo yoga e l'ipnosi di cs vera e professionale sono enormi 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 ed uniche che dire a me hanno insegnato di comprare di provare di scoprire l'enciclopedia da chi la utilizza non da chi la vende ragazzi e il sottoscritto non vende nulla niente e a nessuno niente e nessuno e la mia associazione è il concessionario dei miei diritti che si occupano della vendita ma per coprire i costi di gestione ok io però ti invito a prescindere dal sottoscritto se hai qualche professionista l'ipnosi vera e professionale della tua zona di sederti e iniziare capire il potere della tua mente può magari se non risolvi problemi scrivermi e avere dei consigli gratis dal sottoscritto e ti meraviglierai del potere della tua mente che purtroppo i poteri forti non ti dicono per tanti motivi la risposta sta perché devo dire che con la parola creata d'arte ad hoc tu risolve il tuo problema ed io non guadagno nulla ecco cosa che dice il potere forte a livello internazionale visita ci ho detto ricordati che l'ipnosi dicesse vera e professionale non è né religione né politica che tu devi sempre andare comunque dal tuo medico che non devi rimpiazzare le medicine devi sempre utilizzarle ma una cosa non esclude l'altro ok quindi fammi tutte le domande il caso ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dicesse del dottor claudio saracino visita iscriviti al canale youtube benessere ipnosi soluzione dicesse del dottor claudio saracino e faccia il condividi con amici parenti seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dicesse del dottor claudio saracino visita soprattutto il mio sito internet www.ipnologiassociati.com dove troverai tutto di più e cambierai la tua vita ok non credere a nessuna parola del sottoscritto documentati un bacio un abbraccio del dottor claudio saracino al prossimo video